bacini con marche multiservizi partono le somministrazioni in azienda anche nelle marche al via nel weekend le isole pedonali di viale trieste lavori quasi ultimati salvaguardia dell'acquedotto romano sit in a monte granaro parte lunedì la nuova edizione della rassegna pesaro i tuoi spazi tra borghi e quartieri una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo degli aggiornamenti riguardanti le vaccinazioni anti covid perché sono partite questo pomeriggio le somministrazioni per i dipendenti di marche multiservizi prima lealtà a partire a livello locale regionale per le vaccinazioni in azienda vediamo anche nelle marche l'espansione del piano vaccinale anti covid passa per le somministrazioni in azienda a fare da prepista a livello provinciale regionale è stata marche multiservizi che dopo l'organizzazione e l'allestimento del lab nell'auditorium di via toscana questo pomeriggio ha avviato le vaccinazioni per i circa 70 dipendenti che ne hanno fatto richiesta con soddisfazione posso dire che ci siamo attivati subito sul tema covid sia sulla prevenzione iniziale quindi dal 2020 grazie anche al fatto che facendo parte di un grosso gruppo come quello di ieri siamo attivati subito sulla prevenzione dei nostri dipendenti abbiamo continuato in tutto il nostro percorso e abbiamo veramente limitato i contagi che sono poi stati contagi non sul posto di lavoro ma ovviamente estra ovviamente nel momento in cui si è aperta la possibilità di vaccinare tutto il gruppo era e quindi anche noi ci siamo attivati nei confronti delle diverse regioni per attivare il nostro hub e procedere alla vaccinazione dei dipendenti del gruppo e in questo caso di Marche Multiservizi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare sia il Presidente, l'Assessore Saltamartini, tutto lo staff della Regione perché nel momento in cui abbiamo attivato questo percorso e abbiamo fatto la richiesta sono stati molto collaborativi e ci hanno consentito oggi di partire con la vaccinazione dei nostri dipendenti Tutto questo in tempi anche veramente molto rapidi, come vedete il lab predisposto è stato assicurato e certificato anche dalla competente Azure, le vaccinazioni cominceranno oggi, dicevo l'adesione dei nostri dipendenti sono circa una settantina, ovviamente il numero è un po' più ristretto rispetto alle potenzialità perché nel frattempo comunque le vaccinazioni di carattere generale sono andate avanti anche nei diversi territori quindi molti sono stati vaccinati. Ovviamente lo staff medico è quello del medico aziendale ovviamente condivato da personale anche dell'Azur. L'organizzazione ovviamente prevede tutto quello che il protocollo per le vaccinazioni indica e quindi tutto il processo e il percorso dall'entrata fino all'uscita quindi con tutti i vari passaggi e direi che conto che la settantina di persone che hanno aderito su base volontaria ovviamente perché poi noi abbiamo attivato le adesioni ovviamente sono state fatte nella direzione nei confronti del medico aziendale quindi non nel confronto della struttura aziendale perché comunque va ottemperato anche rispetto della privacy. Conto che la settantina di persone che mi risulta siano state prenotate e oggi possono fare la prima dose. Il vaccino che è stato indicato è il Pfizer e quindi nell'arco di qualche settimana ovviamente ci sarà anche il secondo passaggio. E ora la pagina relativa agli aggiornamenti Covid sul territorio regionale. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.517 tamponi, 1.257 nel percorso nuove diagnosi e 1.260 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati del 3,4%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 43 con quattro casi registrati nella provincia pesarese. Nella serata di ieri non è stato notificato alcun decesso correlato al Covid. Nel pomeriggio di oggi invece il governatore Francesco Acquaroli ha comunicato che per la seconda settimana consecutiva nelle Marche i numeri del contagio sono da zona bianca. Se la tendenza dovesse essere confermata anche per i prossimi sette giorni, dal lunedì 21 giugno anche la nostra regione potrà accedere alla fascia con minori restrizioni. In primo piano anche la cronaca perché si è verificato nel pomeriggio di ieri il decesso di una donna di 75 anni residente a Bologna in vacanza a Pesaro mentre si trovava in spiaggia, più precisamente a Sottomonte all'altezza di Bagni Due Palme. La donna è stata accolta da un malore improvviso mentre si trovava vicino alla riva. Inutile l'immediato soccorso del bagnino e i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario giunto sul posto. E parliamo ora di viabilità perché sono in fase di ultimazione i lavori di allestimento dell'isola pedonale di Viale Trieste che grazie al rispettato cronoprogramma dei lavori entrerà in funzione già da questo weekend. Faranno il loro debutto già a partire da questo fine settimana le isole pedonali di Viale Trieste. I lavori di verniciatura e l'installazione delle strutture previste dal progetto tra cui panchine, fioriere, gazebo e lanterne sono quasi giunti al termine e dunque i tratti compresi da Viale Zara, via Ninchi e poi da via Marconi fino a via Pola si apprestano a chiudere al traffico per rimanere accessibili alle passeggiate di pesaresi e turisti. Ci stiamo preparando, domani pomeriggio dovrebbe essere tutto terminato, abbiamo perso un paio di giorni per la pioggia perché la segnaletica a terra non si poteva fare con l'asfalto bagnato, però i nostri operai del centro operativo stanno recuperando il tempo perduto e da qui a domani, al primo pomeriggio, sarà tutto terminato. Mancano appunto le fioriere che stanno arrivando, le avevamo stoccate al centro operativo, i teli dei gazebo che vedete più avanti, è un esperimento che avevamo fatto lo scorso anno e quest'anno abbiamo deciso di ripetere anche perché abbiamo acquistato l'area di Villa Marina, parcheggio strategico per la zona mare. Abbiamo accolto alcune di quelle che erano le esigenze dell'attività commerciale, per esempio allungare il periodo del carico e scarico e dare la possibilità ai taxi di passare, servire la zona, quella carrabile, con la navetta e con il trenino, tutti quei piccoli accorgimenti che già rispetto allo scorso anno ci hanno dato un feedback decisamente più positivo anche da parte delle attività commerciali, alcune delle quali lo scorso anno avevano mostrato perplessità. Questo è un intervento partito dalle esigenze di avere più spazio all'esterno per i locali, ovviamente le norme Covid ci hanno portato a dare molte più concessioni di suolo pubblico e da qui penso a domani, a qualche giorno, vedrete diverse attività che metteranno i loro tavolini sul viale e la passeggiata sarà più comoda sul marciapiede anche in mezzo alla strada. Abbiamo pensato di installare il gazebo, appunto sono dieci che metteremo a disposizione di chi vorrà fare il mercatino, dotati di corrente e di tutto quello che serve. La cifra che abbiamo messo a bilancio complessivamente, concluso a IVA, che il Comune ovviamente non recupera, sono 81 mila euro e quello che mi preme sottolineare è che gli arredi che abbiamo acquistato saranno arredi utilizzabili anche in altri contesti nel momento in cui inizieranno i lavori di riqualificazione vera e propria del viale. E si è svolto questa mattina nel quartiere di Montegranaro un sit-in di cittadini e del Comitato tutela dell'Acquedotto Romano e della Necropoli di Pesaro per chiedere la salvaguardia del tratto di reperto scoperto durante lo svolgimento dei lavori per la costruzione di una parazzina in via Spallanzani. Noi siamo già in comunicazione, in dialogo con la soprintendenza per la rivelazione di questo tratto che è comunque un tratto già conosciuto e già nelle carte, nelle mappe comunali, infatti noi vorremmo sapere perché è stato dato il permesso di costruire qui come in tanti altri posti, per esempio per la costruzione della bretella e vorremmo sapere come verrà preservato questo tratto perché traslarlo cosa significa? Usare delle tecniche che comportano comunque un costo più di questa palazzina che verrà costruita. Qui ci sono varie responsabilità, l'urbanizzazione di Pesaro è stata la nemica dell'Acquedotto Romano, noi avevamo un acquedotto all'aperto a Pesaro e più o meno 50 anni fa, 70 anni fa è stato distrutto per la costruzione della via Flaminia e quindi noi vogliamo rompere questa tradizione, vogliamo preservare un acquedotto che ci serve da 2000 anni e che serve ancora a Pesaro, non solo quando i tedeschi hanno bombardato Pesaro e quindi è rimasta l'unica fonte accessibile ad acqua, ma anche adesso rifornisce le varie concessioni balneari e le fontane di Pesaro. Si può ripensare il progetto della palazzina per metterlo sotto una teca e per renderlo visitabile. È chiaro che bisogna far confluire gli interessi della costruzione della ditta che comunque purtroppo non è stata avvisata con gli interessi della tutela del patrimonio storico. La domanda mia è come hanno fatto circa negli anni 1970 a poter costruire tutta la zona, Loreto, Montegranaro e Muraglia praticamente con l'Acquedotto sotto i piedi. Se all'epoca hanno cercato di preservarlo e poi ci sono i vincoli ovviamente che il PRG rispettati o non rispettati, allora perché ora non può rimanere lì? Noi teniamo molto a dire che questo tipo di manifestazioni non sono fatte per entrare in guerra o in conflitto con le istituzioni, ma al contrario per creare via via un dialogo con esse, per porci come consulenti, per lavorare insieme per salvare una Pesaro antica che attualmente è abbandonata e trascurata e che però presenta architetture e valori culturali assolutamente da salvare. Insieme ce la possiamo fare. La scuola Brancati è uno degli edifici più ecosostenibili del mondo. A stabilirlo è l'US Green Building Council che ha premiato l'istituto di Via La Marmora con il Leadership Award 2021, ovvero l'Oscar per l'architettura green. L'edificio pesarese, primo tra gli istituti in Europa e terzo edificio al mondo, si unisce a una ricca schiera di premiati che include organizzazioni, progetti e persone di tutto il mondo che hanno ideato e realizzato edifici ecosostenibili per migliorare la qualità della vita delle persone. Soddisfazione espressa dall'amministrazione comunale e anche dall'architetto Margherita Finamore. In attesa del Green Pass Covid-19, le Marche propongono alla Conferenza delle Regioni e al Governo di adottare un'autocertificazione subito operativa per partecipare a eventi, cerimonie e feste. Il Vice Presidente Mirko Carloni, coordinatore della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, ha inviato la richiesta e il modello autocertificativo al Presidente Massimiliano Fedriga e agli assessori componenti della Commissione. Nella lettera Carloni evidenzia la necessità di essere immediatamente operativi per permettere alle aziende di iniziare la loro attività, in attesa di eventuali interventi da parte del Governo. E il bike sharing pesarese si arricchisce di nuovissime due ruote in grado di semplificare al massimo i viaggi in città. Sono infatti arrivate le e-bike firmate Ride Movi SPA, azienda italiana leader nella micromobilità europea. Biciclette a pedalata assistita ma anche muscolare per un totale di circa 130 mezzi. La tariffa delle e-bike è di 20 centesimi al minuto e per l'utilizzo delle biciclette è necessario scaricare l'app Ride Movi. Tutti in piedi sugli spalti del Miralfiore questa mattina all'alba per il capodanno matutino targato Cater Tour che dalle 6 con la diretta nazionale su Rai Radio 2 e su Rai Play ha dato il buongiorno alla città. Spalti sold out al Parco Arena Miralfiore per il primo concerto post-pandemia degli Extra Liscio, iniziato con l'esecuzione del brano portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo e proseguito poi con un medley dei più grandi successi dell'iscio e con una dedica di Romagna Mia a Raul Casadei. E torna da lunedì 14 giugno a Pesaro i tuoi spazi tra borghi e quartieri, rassegna diffusa della creatività e della comunità promossa dal Comune di Pesaro. Lanciata nel 2019 la proposta torna quest'anno più ricca e articolata con l'intento di valorizzare attraverso la cultura i quartieri e il territorio comunale nel suo intero assetto. Ricco il calendario di appuntamenti, circa un centinaio e tutti ad ingresso gratuito, che proseguiranno fino al 18 settembre. Ce ne parla nell'intervista il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini. Un'edizione sì, sempre più larga, sempre più ricca, siamo molto felici di questo. Oltre 100 iniziative, grazie ai 12 quartieri più il municipio di Montesicardo, a cui si aggiungono 100 laboratori per i più piccoli, per la fascia 0-7 anni, grazie alla collaborazione con Labirinto. In generale è l'occasione di andare nei quartieri, andare nei borghi, andare nei parchi, andare nel fresco dell'estate, soprattutto nelle frasi settimanali e trovare letture, spettacoli per bambini, teatro, laboratori per l'appunto, ma anche conferenze sulla musica o conoscere con Gabriele Stropanobili la storia attraverso le fotografie dello stesso quartiere, magari dei tempi andati, insomma tante occasioni di incontro, di socialità per vivere un'estate in aggregazione responsabile, per non dovere sempre per forza arrivare in centro al mare, ma trovando come nello spirito anche dei nostri quartieri che sono sempre molto attivi, diciamo divertimento, cultura, attrazione, possibilità di incontro anche nei luoghi identitari, nei luoghi dove magari si giocava da piccoli e una bella collaborazione tra tre assessorati, l'assessorato alla cultura e turismo, l'assessorato allo sport e ai quartieri, l'assessorato all'ambiente e ai borghi. Il tema sportivo e soprattutto dello sport come elemento di educazione e di contrasto anche al bullismo e a pratiche diciamo sbagliate è uno dei temi, quindi tante iniziative con testimonianze o opere letterarie, di sportivi insomma che raccontano lo sport da un punto di vista diverso ma nella sua ruolo fondamentale e sappiamo bene a Pesaro quanto sia importante, così come l'ambiente che viene declinato da Lega Ambiente, da Plastic Free, da Coldiretti, dall'importanza del biologico al contrasto all'espressione delle plastiche e tutto quanto Lega Ambiente a partire dalla Goletta Verde può raccontare in termini di importanza dei mari, quindi anche qui messaggi che vanno ai più piccoli, che vanno alle famiglie, che vanno un po' a tutti, le visite a casa degli artisti, nelle studio degli artisti, un'altra bella opportunità di artisti che così si scoprono magari anche vicini di casa diciamo e che sono a disposizione nello spiegare il loro percorso creativo e anche le loro opere e le letture che sono una costante ovviamente di questo programma, assieme anche ai burattini e assieme al teatro per ragazzi, letture fatte con le voci di libri e con le foglie d'oro che un po' per i più grandi, un po' per i più piccoli, insomma tratteranno temi della letteratura, anche l'anno dantesco, insomma tante opportunità veramente che invitiamo a seguire, un programma nutrito che sarà distribuito nei prossimi giorni e che si alimenterà di incontro in incontro, da lunedì prossimo, come ha detto lei, fino a settembre. E sono pronti a partire dalla prossima settimana gli oratori estivi dell'Arcidiocesi di Pesaro. Nella prossima intervista a Don Giuseppe Fabrini, direttore dell'ufficio pastorale oratori e parroco della chiesa di Santa Maria di Loreto, ci ha parlato dei numeri e delle attività in partenza da lunedì. Bambini e ragazzi fruitori dell'oratore saranno 300, 310, 150 sono animatori ed educatori, quindi il numero complessivo sui 4,50. Abbiamo dovuto contingentare il numero perché dobbiamo mantenere soprattutto all'interno il distanziamento, così come il protocollo sanitario prevede. I ragazzi staranno tra coetanei, anche se il nuovo decreto del Ministero, non della Sanità, ma delle politiche familiari e della salute ci dice che possiamo avere gruppi più grandi rispetto allo scorso anno, il cui rapporto era adulto 7, adulto 10 secondo l'età. Quindi saranno gruppi di una quindicina di ragazzi, possibilmente coetanei, poi dovranno stare distanziati tra di loro, certamente dovranno utilizzare ciascuno la propria aula e non quindi un'aula che serva a più gruppi. All'interno dovranno mantenere il metro di sicurezza, possibilmente anche all'esterno, la mascherina, l'igienizzazione spesso delle mani, così come di tutti i materiali che utilizziamo. Di 25-26 oratori dell'Arcidiocesi, quest'estate sono 19 le parrocchie che hanno già, alcune in questi giorni, altre nei prossimi giorni, iniziato le attività estive. L'oratorio viene portato avanti attraverso attività educative, didattiche, ludiche, di sport, animative, quindi animatori ed educatori sono figure fondamentali. Peraltro il loro lavoro in sinergia, il loro proporre le attività, il loro essere presenti, il loro esempio come stile di vita fa sì che l'oratorio sia soprattutto il luogo degli animatori e degli educatori, quindi il luogo dei giovani. Dobbiamo ringraziare, e lo faccio a nome di tutta la diocese, a nome dell'Arcivescovo, tutti gli animatori, gli educatori, gli adulti che si sono resi ulteriormente disponibili per queste attività estive degli oratori, per dare il segno appunto che nel territorio le persone hanno desiderio, voglia e ce la fanno a ritrovarsi insieme. Proveremo anche a organizzare, non in presenza, la giornata degli oratori insieme che abbiamo fatto per dieci anni, l'anno scorso abbiamo dovuto sospendere appunto non potendo incontrarci. Lo faremo attraverso dei piccoli spot che ogni oratorio presenterà e ne verrà un video e che daremo poi nella pagina YouTube dell'Arcidiocesi. E apriamo ora la pagina sportiva del nostro telegiornale perché ha avuto luogo questa mattina presso la sede della VL la premiazione della vincitrice del concorso VL Fan Engagement, promosso è presentato durante il programma di Rossini TV insieme a Canestro realizzato in collaborazione con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Nell'occasione il presidente Ario Costa ha parlato di futuro e della speranza di riavere i tifosi alla Vitrifrigo Arena nella prossima stagione. Maria Chiara Boscia, bellezza giovanissima pesarese, trappiantata alla Spezia da tantissimi anni, la vincitrice del premio che Rossini TV insieme alla Vittoria Libertas Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha indetto per la trasmissione insieme a Canestro per il commento più bello giunto nelle 25 puntate che hanno accompagnato la storia della VL in questa stagione. Maria Chiara, sei contenta di aver raggiunto questo traguardo? Sì, sì, molto, perché poi comunque sono grande tifosa della VL, quindi sì. Una maglietta che indosserai oppure la appenderai come tanti cimeli che trovi qui nella nostra sede? No, questa la appendo perché comunque ci sono anche tutti gli autografi dei giocatori, quindi sì, bisogna appenderla. Ti aspetti la prossima stagione di livello come quella appena trascorsa? Ma speriamo di sì, ma si punta anche più in alto, ecco sì. Ario, Maria Chiara è una giovanissima tifosa, avete dimostrato quanto ci tenete non solo ai tifosi pesaresi ma anche ai pesaresi trapiantati fuori e questo è un segno di riconoscimento per l'attaccamento alla maglia e ai colori. Vuoi ripetere ai nostri ascoltatori perché scegliesti quel commento? Prima di tutto complimenti, brava Chiara, io credo che questi tifosi, questa passione che noi sentiamo anche non solo a Pesaro ci fa ancora più piacere perché significa che anche da lontano ci guardano grazie a tutti quelli che sono oggi i sistemi di informazione e quindi siamo ben felici che Chiara abbia vinto. Il perché abbiamo scelto lei, credo che era il commento più simpatico, più vero, più, ripeto, anche più esteso, ripeto, in tutta Italia. Quindi speriamo che ti diamo alle soddisfazioni in futuro e tu continuati a farci. Ario, invece se ci vuoi guardare qualche anticipazione o ancora bocche cucite per i prossimi sviluppi, aspettiamo il torneo preolimpico? L'unica cosa è che è arrivato il caldo, comincia a sentirsi il caldo, quindi significa che stiamo entrando nei mesi decisivi per la costruzione della nuova squadra. Stiamo lavorando, di novità mi piacerebbe darne ma non ce ne sono, siamo in un momento di totale stand-by per mille motivi. Non è che stiamo con le mani in mano, lavoriamo, ma ripeto, oggi bisogna, prima di sviluppare la squadra, abbiamo svolto tutti i doveri e i compiti per le iscrizioni nel prossimo campionato che non sono cose semplici, non è una banale domanda, ma sono tanti documenti importanti e quindi siamo a posto. Stiamo chiudendo la stagione appena finita per la quale abbiamo premiato Chiara e poi dal primo luglio avanti penseremo al futuro. Ario, oggi iniziano gli europei di calcio, allo stadio olimpico 16.500 spettatori potranno assistere alla cerimonia di apertura e alla gara inaugurale con Italia-Turchia. Un segnale di speranza e di ottimismo che ci fa ben sperare per l'apertura anche alla vitrifrigo di una bella capienza, non soltanto 500 posti. Sì, oggi sicuramente inizia per il mondo intero, per l'Europa in questo caso, una grande manifestazione sportiva, quale campionato europeo di calcio, a cui tutti bene o male, tifosi o meno, ci teniamo. È della grande altra vittoria o speranza che si riparte, si riparte col pubblico, perché senza la Chiara di turno noi non possiamo sopravvivere. Senza i nostri tifosi lo sport è tutta un'altra cosa, quindi da oggi speriamo che si vada sempre via via migliorando, perché sono due cose importanti. La prima significherebbe che questa pandemia sta finendo e la seconda rivedere gli stadi, i palazzetti con un po' di gente. Ancora una notizia di sport, perché il giovane pilota di Gradara, Matteo Morri, ha conquistato la prima vittoria stagionale sul circuito di Cremona in occasione della seconda tappa del trofeo Moto Estate nella categoria Super Mono. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo di categoria nelle qualifiche ed una buona partenza in gara, Morri, che è stato di recente ospite su Rossini TV a Casa Rossini, si è giudicato alla vittoria tra le Super Mono, che unita alla seconda posizione ottenuta la prima gara di Varano, lo proiettano in testa alla classifica di campionato. Il prossimo appuntamento è per il 27 giugno di nuovo all'autodromo Paletti. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo la prima serata di Rossini TV, questa sera alle 21.15 potrete vedere il programma dedicato alla nostra regione Marche.Europa in prima serata su Rossini TV alle 21.15. E domani mattina torna puntuale ovviamente l'appuntamento in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini alle 7.20. Alla conduzione ci sarà Antonio Stuti. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV. Grazie. Grazie.